buonasera buongiorno anzi sono l'agente di diego demme e voglio un aumento dopo queste dichiarazioni del mister su demme ragazzi torniamo seri torniamo seri torniamo seri sono vestito bene non vi dovete scandalizzare ma adesso dobbiamo parlare di spalletti che ha parlato ieri doveva parlare di una persona che ha parlato di un'altra persona perché spalletti ha parlato di demme ragazzi l'ha definito il nuovo pizarro il nuovo pizarro come il ruolo che interpretò pizarro alla roma gli hanno chiesto ma può farlo quel ruolo può essere il nuovo pizarro per te e spalletti ha detto per me lui già lo è quindi demme è super lanciato nel progetto di spalletti già dopo un giorno di ritiro logicamente spero che queste certezze del mister siano fondate non è che dopo un giorno di ritiro arriva e inizia ad assegnare ruoli e poi magari durante la stagione demme neanche giocherà magari tutto può essere però ragazzi però subito dichiarazioni molto molto forti uomini forti destini forti uomini deboli destini deboli e ha parlato anche di insigne che per lui è un ottimo capitano un giocatore che però come ha detto lui viene dalla vittoria di un europeo e quindi ci stanno sempre queste voci attorno poi ha parlato anche di osimen l'ha definito un punto centrale un appoggio come dire ok ok in dando il napoli si sta continuando allenare senza magliette senza un cazzo sappiamo intanto ieri ho pubblicato un video brevissimo in cui vi svelavo la data della dell'arrivo delle nuove kit a 7 e quindi per tutto il mese di giugno di luglio il napoli giocherà con delle divise scandalose ancora questo è sicuro faremo anche l'amichevole col bayern in queste condizioni mamma mia ragazzi ma mai perché però c'è stata la prima cessione la cessione di tutino al parma per 5 milioni e mezzo quindi la prima cessione c'è stata e napoli penso che dovrà cedere ancora qualcuno e poi iniziare a fare mercato quando avrà la squadra al completo ma quest'anno sarà dura ragazzi sarà dura veramente non aspettiamoci grandi colpi lo sto dicendo da un mese e mezzo e siamo a metà di luglio e non è arrivato proprio nessuno quindi altro che grandi colpi speriamo che prendiamo qualcuno e non se può fa che tu fai diventare forte gente che non lo è ci vuole gente io non voglio che il napoli investa chiaramente certo detto vestito così sembra un imprenditore sembra che sto parlando di una cosa che mi riguarda però io non voglio che il napoli investa ragazzi io voglio che il napoli prenda dei giocatori a poco ma che siano forti tipo un bella mila zero tipo si giocatori a parametri zero perché cavolo il napoli non prende mai qualcuno a parametro zero a questo questo dico io nient'altro ci vediamo al prossimo video ragazzi alla prossima iscrivetevi al canale ciao a tutti iscrivetevi al canale